Buongiorno! Buongiorno un cazzo! No! Ma perché? Ma noi siamo la coppia più bella del mondo E ci piace per gli altri Che sono tristi Che sono tristi E che non sanno più Cos'è l'amor Cos'è l'amor L'amore no i cazzotti Io te la tocca la testa da te Ma perché? Che testa c'è? Quella del cazzo No! Così! Buona domenica! Che stai a fare? Che stai a fare? Eh? Che stai a guardare? Parla della glicemia Vabbè Stamattina parlamo della glicemia E sì che qua Vabbè l'amor Non baci Non baci Va su là Non mi bacino Non mi bacino Non mi bacino Non mi bacino Va via! Non mi bacino Testa di cazzo Eh ho capito ma Non ci ho fatto apposta Improvviso Eh non ti ho visto no Poi te ne è cascato un goccio Non fa tanti versi Mamma mia Sempre incazzato Dove? Cazzato? Sei sempre incazzato Sì Cazzo Dacci il malloppo dai Sì Ti do il coglione Ziggia Bella vita Bella vita Bella vita Tutta vita in rock'n'roll Sta pieno? Sta pieno così Come? Pieno di topa Ah Pieno Pieno Ecco Il muflone Strossaprete Ora il muflone Muflone Oh Sto scegliere Strossaprete Ove strozzaprete Muflone Che si nutre di coratella Ecco Col pane Ma un po' Fa il panino Com'è? 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 Porzioni Monoporzioni Muflone Italiano E poi adesso Umbro anzi Eh? Anche se non ho sentito niente Vali dai Dai va al bagno Oh no Eccolo Che stai a fare? Ma vieni a rompi Poi non da me Perché? Ma tu non ce l'hai andata Che vuoi fare? Eh? Para Vieno Oh Scappi Fermati Scappi o no? No Guarda c'è anche il parastinco De Sant'Ubaldo Ma che stai tanto Mi viene da me solo C'è una rompa L'armata a me Dai calci Io li metto di qui E' come il parastinco Vedi? Vai Prova Vedi il parastinco De Sant'Ubaldo Hai capito? Oh Hai capito o no? Smetto la latta Chi è che arzuga All'insalata Chi è che arzuga? Su cazzo No Come ti fa un pennello? Manca un pennello? Ma è possibile che uno sta mangiando un c***o? Mettendo fuori i capelli di dormuzione? Non capito Eh non capito Se uno ti fa il pennellino Battagli che il vede Infilzano lui No Infilzano le maniere forti No Le minacce no Sì già oggi è sabato Le messe non ci sono Prima di Pasqua Tu ti ricordavi? Eh? Ti ricordavi che non c'era la messa? Eh? Io lui c'ha pensato Che no Non si ricordava Quindi niente messa Però sei contenta vero? Sei contenta Sono contenta Vabbè è sparito Non è meglio Non è bello Allora ragazzi Il video questa sera È questo Prendetevi cura degli anziani È vero? Che non c'è cosa migliore Vi do la buonanotte Lazzigiana vi da la buonanotte Buonanotte a tutti Poi bisogna metterla sul letto Vai Vai attacchete Allora Eccola Wow E bisogna coprirla Eccola qua Ed attaccare L'antidecubito Antidecubito Attaccato Che è ben coperta Che è ben coperta Bisogna alzare La sbarra La sbarra Il treno E adesso È pronta Le spalle Le spalle È pronta per fare il video A che ora A che ora Ma a che ora c'è da venire Eh Quando c'è da venire oggi No no Quando Quanti c'è Quanti c'è Quando è Ma a che ora c'è da venire Ma a che ora c'è da venire oggi Ma a che ora c'è da venire oggi Ma a che ora c'è da venire oggi E invece Io c'è da venire perché sei tu È vero Sì Namo Sì E io c'è la tua Ma lei Fa fissare fammi venire a dormire con te ma cammina va a dormire con una bella sorca col pelo fammi toccare una poccina sì, un pardo coglione fa toccare fammi toccare una poccina vabbè anche una poccia? no che te tocco? un pardo coglione cincilla? e fammi vedere lì oh ma sei pronto per venerdì? per che fa? eh che fa venerdì? come fa andreone? che farei? che c'è venerdì? ti ricordi? che c'è? che c'è? che c'è? ragazzi mettete tutti in promemoria perché è una giornata importante vero? vabbè sarà importante te lo dico su un orecchio io ne ho e beh io che fai stato qui non sei contento? sì ma stato qui però dì un po' è una bomba? sì è una bomba? sì fa la bomba boom fa la bomba boom e lì che ti dico io mannaggia che rispondo? ah ma fa la bomba e fammi vedere lì guarda la bomba che fa niente eh fa più forte sì più forte col cazzo nooo buonanotte bello guarda gli vedi da ridere guarda gli vedi da ridere guarda gli vedi da ridere ma vi andrà a piangere da me avesse l'immagino eh nonna maria e poi ti tira una scarpa eh da nonno la tira eh tira una scarpa da nonno hai certo? sei ignorante e tutte parolacce ma eh tutte parolacce dici dalla Francia ti hanno telefonato e tu che hai detto buon suor c'è romo le coccodrilloni come dico sempre adesso stavo riguardando ancora altri video con la zi Gianna e sono veramente fortunato ad aver immortalato questi momenti perché me li posso rivedere quando voglio ancora sento quell'emozione dentro che la boh non so come spiegarvi però il consiglio che posso darvi è passate del tempo e immortalatelo fate dei video fate delle foto che poi più avanti è un ricordo bellissimo quindi è bello anche averle sul telefono è bello averle sempre a portata di mano perché sì un conto è te le ricordi a mente ma certe cose te le scordi però se tu ce le sei io ho una marea di video infatti sono super felice di questo e bello sempre 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 emozionante veramente fantastico specialmente la domenica perché è il giorno in cui vado al cimitero quando sono qua quindi mi piace così mi piace così grazie a tutti